Un viaggio nel tempo con decappottabili, mezzi di lusso, semplici 500, l'importante è che le auto del drive-in al Prato fossero d'epoca, massimo 1970, anzi 68 perché questo è l'anno in cui è nata la Fiera Antiquaria. Questo è uno degli eventi voluti dall'assessore Marcello Comanducci per il compleanno della Fiera, riportare le lancette indietro nel tempo con Back to 68. Tutto al Prato riporta a quegli anni grazie anche al mercatino vintage che farà da cornice al concerto dei miti degli anni ruggenti, Don Baki, New Trolls e Camaleonti a partire dalle 21.30.